L'orientamento della direzione della SVP sulla proposta di riforma della legge elettorale è chiara. Anche in futuro il presidente della giunta provinciale dovrà essere eletto dal consiglio provinciale non attraverso un'elezione diretta. A tal proposito Patrick Rina ha sentito alcuni esponenti politici per capire cosa ne pensano. Ad iniziare dall'obman della SVP che ha ribadito la linea del partito. Nella maggior parte delle regioni d'Italia la popolazione può eleggere direttamente il presidente della giunta. Però in tutte queste regioni abbiamo un sistema che collega al presidente anche un premio di maggioranza. E questo premio di maggioranza sicuramente non è avvantaggio delle opposizioni, anzi. Io sono convinta che la Volkspartei abbia grandissima paura di perdere la maggioranza assoluta perciò deve inventarsi dei giochetti per mantenere la maggioranza in questo consiglio ed è questa la motivazione per cui ci inventiamo. Prima critichiamo Roma, dopodiché ci inventiamo il listino bloccato anche in Alto Adige. Quindi un listino bloccato diventa come dire uno strumento per portare avanti i quattro amici del bar e poi lasciare gli altri a scannarsi sulle preferenze. Dall'altra parte bisogna dire però oggettivamente che anche il listino bloccato potrebbe essere comunque una scelta del partito su persone che il partito ritiene competenti o preziose per l'attività politica. Quindi c'è da riflettere molto su questo. Tendenzialmente preferisco le preferenze io. Sono assolutamente giunti al livello della disperazione, non sanno come potersi garantire la maggioranza nel prossimo consiglio provinciale, è la forza della disperazione dovuta anche a una totale incoerenza. La Fospatai dichiara sui giornali di essere contro il sistema, giustamente lo sono anch'io, contro il sistema Porcellum romano che prevede listini chiusi e loro propongono sulla legge elettorale un listino parzialmente chiuso. E coloro che si dicono contrari al Porcellum romano vogliono portare il Porcellum in Alto Adige. Francamente ritengo, siccome lo spec lo fanno con i maiali olandesi, adesso cercheranno di fare il Porcellum con i maiali romani. Non lo so, sicuramente c'è un'incoerenza di fondo.